SORTI SORTI Presidente, la canevalesca allora dopo domani affronta un altro passaggio importante dopo la decisione sul ticket d'ingresso adesso avete l'assemblea da portare avanti Eh sì, adesso ci sono queste cose burocratiche da portare avanti quindi giovedì 12 alle 21 al Pesce Azzurro faremo l'assemblea annuale dove approveremo il bilancio di previsione dell'esercizio 2017-2018, approveremo anche il bilancio consuntivo che non riuscimmo ad approvare qualche mese fa all'assemblea perché non ci furono i numeri e quindi poi partiamo, d'altronde è da statuto portare il bilancio di previsione per far partire il carnevale, quindi noi cerchiamo di fare le cose come si devono fare per quello che è possibile e quindi diciamo che da venerdì se tutto va bene e tutti saranno d'accordo con questo bilancio partiremo con la programmazione del carnevale Ecco, commenti a caldo sulla decisione presa riguardo del ticket, quali sono i rebound che vi sono arrivati in questi giorni così di post-decisione? Ma guarda, Facebook è anche un bacino di emozioni a cui ci si lascia un po' prendere, devo dire che pensavo andasse peggio nel senso che ci sono anche tante persone a favore Certo, è una decisione impopolare, un po' difficile, però andava fatta, se foste da questa parte qua capireste che era un passaggio da fare quindi state tranquilli, a brevissimo daremo la definizione di quello che poi sarà il biglietto ma sarà assolutamente popolare, non ci sarà da spaventarsi assolutamente Idia! Badisicchio non ci sarà della storia ати q Ну Qu D Grazie a tutti